Ciao ragazzi e ciao ragazze, sono tornata con la guida dedicata al mondo dei ragazzi, degli uomini. Oggi scopriamo insieme come vestirsi in discoteca. Prima però lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Adesso possiamo andare. Trovare il look giusto per una serata in discoteca con gli amici nel weekend oppure durante le vacanze può essere spesso un vero e proprio problema. Per i ragazzi il dress code è molto diverso da quello delle ragazze che possono indossare praticamente di tutto. Ecco i capi must have da scegliere in base all'occasione per una serata perfetta in discoteca. La camicia. La camicia è un vero e proprio must. Sceglietela nella fantasia che preferite e nel colore che preferite. Se si tratta di un locale super elegante, chic e formale, preferite la tinta unita, possibilmente azzurra e bianca per l'estate e nera per l'inverno. Farete un figurone. Odiate la camicia? La t-shirt è la scelta giusta. Fate bene attenzione all'occasione e alla tipologia di discoteca perché in alcuni luoghi la t-shirt è bannata e non vi faranno entrare. Sceglietela basica, possibilmente bianca, con un disegno centrale non troppo evidente e possibilmente nella misura giusta. Evitate quella oversize. I jeans. I jeans sono sempre, comunque, dovunque la scelta giusta. Vanno benissimo anche per le serate in discoteca. Sceglieteli skinny oppure normal fit, regular fit. Evitate quelli larghi in stile hip hop, a meno che non sia una discoteca in stile hip hop. E sceglieteli di un lavaggio medio scuro, senza troppi strappi. I bermuda. In estate, nelle discoteche all'aperto, poi nei spiaggio, per i locali estivi, sono la scelta giusta. Specialmente quando ad agosto ci sono qualcosa tipo 30 gradi anche di sera. Sceglieteli assolutamente tinta unita, a vita normale. Evitate quelli che lasciano uscire le mutate. Quest'anno sono altre. I pantaloni reganti. Sono una scelta azzardata. Sceglieteli solo nel caso in cui vi siano veramente super comodi. siate abituati a portarli. Abbinateli assolutamente alla camicia e alla giacca. E sceglieteli prevalentemente per le serate formali o per le discoteche che fanno la selezione all'ingresso. Abbinate dei mocassini e sarete al top. Scarpe. L'argomento scarpe per la discoteca è molto discusso. Infatti ci sono due schiaramenti. Uno che opta per le sneakers, le famosissime Adidas Superstar e Stasmic. Sono le più cool, sono le più classiche e sono anche sdoganate per la discoteca. Quindi vanno benissimo. Se vi capita un evento formale, una discoteca che fa la selezione all'ingresso, potreste aver bisogno di scarpe eleganti. Le più classiche sono i mocassini. Sono un po' passate di moda e possono non piacere a tutti. Personalmente a me non piacciono nemmeno un po'. Né sulle donne né sugli uomini. Optate invece per un paio di sneakers eleganti classiche e nere. Andrete sul sicuro e sarete super conti. I look da discoteca finiscono qui. Questi erano una serie di capi che vi saranno utilissimi in tutte le occasioni. Sono i capi master da mixare in mille modi diversi. Mi raccomando valutate sempre bene la location e la tipologia di serata che state andando a fare. Guardate anche se c'è un dress code. Perché se fosse un dress code total white e vi presentasse vestiti completamente di verde, giallo o nero, sarebbe una cosa veramente sbagliata. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie.